buonasera dalla voce di chi non ha voce un saluto agli eroi alle eroine rivolgendomi a tutti gli altri se volete entrare a far parte della nostra grande famiglia sotto troverete il link della mia pagina patreon inoltre oramai è diventato una specie di rituale mi raccomando metti un bel pollice in su e condividi il video fatto molto bene possiamo incominciare allora voglio continuare la discussione che da un paio di giorni sotto i miei video è sorta ma prima di tutto io voglio dire senza tema di smentita che elenix è tra le migliori commentatrici sotto i miei video da anni io credo che ci siano 10 20 30 grandissimi commentatori e commentatrici ed elenix fa parte di questi tra grandi commentatori commentatrici ometto alcune persone che sono quasi sempre d'accordo con me molto spesso ed altre come elenix che a volte concordo ne ha volte no ma lei argomenta lei lo fa con rispetto ed è per quello che io ho risposto al suo commento perché è l'esempio di come si propone una visione diversa delle cose perché questo è pieno questo è un mondo pieno di gente che critica che giudica ma è pieno di gente che lo fa senza rispetto senza empatia con atteggiamenti sgarbati e con pochissime argomentazioni elenix sa argomentare e lo fa con assoluto rispetto e quindi è viva e viva le persone che si sanno relazionare con gli altri così su internet e sulla vita diciamo nella vita di tutti i giorni poi di conseguenza alla mia massima solidarietà anche se non ne ha bisogno rispetto ad alcune parole che le sono state rivolte che non condivido affatto poi sono diventato così zen che non voglio neanche giudicare chi giudica ne approfitto tanto per continuare la questione interessantissima per rispondere un altro paio di cose che ha detto elenix ovvero lei è una cosa interessante ovvero enrico comunque ci sono delle persone frustrate tante tra quelle integrate perfettamente nella società ma ci sono dei frustrati anche tra quelli al di fuori della società non non integrati nella società ed è assolutamente vero però ci tengo a sottolineare una cosa importantissima io per esempio non sono il paladino o il punto di riferimento di tutti quelli non integrati nella società attenzione io non esalto tutti quelli non integrati nella società è pieno di persone non integrate nella società non apparentemente pecoroni che sono lontani anni luce da me e sono ben lontano da elogiarli io esalto tutta quella parte di persone non integrate nella società che però lo fanno intanto per scelta loro principalmente e poi animati da principi è pieno di persone al di fuori della società che di principi non ne hanno certo a parole sì ma unicamente per frustrazione non per consapevolezza cioè ci sono persone sostanzialmente diciamola in maniera molto chiara che attaccano la società dico questo è un brutto mondo tutti i pecoroni tutti cattivi io sono diverso ma è unicamente una cosa di facciata per rabbia nei confronti di una società che li ha esclusi cioè quella loro esclusione non è una scelta loro si sono trovati in questa condizione a loro sgradita sono i classici le classici le classiche volpi che non raggiungono l'uva è pieno di persone così non dico sotto i miei video qualcuno sì ma in generale ce ne sono queste persone sono ben lontane da quelle che esalto io anche quelle persone sono le prime che se un giorno dovessero vincere che so un milione di euro la lotteria il giorno dopo diventerebbero ancora più pecoroni dei pecoroni che criticano è un po come l'operaio quello ignorante non l'operaio consapevole rispettabile ma l'operaio ignorante e becero che attacca il potente imprenditore ricco e poi quando lui ha un minimo di potere tratta i suoi diciamo sottostanti peggio di come faceva il capo con lui quindi proprio l'apoteosi della non diversità anzi uguale agli altri ma peggio quindi io esalto una piccola parte una parte minoritaria di quelli esclusi diciamo dalla cosiddetta società di quelli che si sono auto esclusi dalla società e tra l'altro non denigro nemmeno tutti quelli inseriti nella società così come non denigro nemmeno a priori tutti quelli che scendono a compromessi perché c'è situazione in situazione se una persona si trova per esempio con due figli o con un figlio un affitto da pagare è chiaro che se non accetto un piccolo compromesso rischia di far morire di farmi i propri figli o trovarsi per strada e quindi alla mia massima comprensione chi accetta dei piccoli compromessi poi quando quei piccoli compromessi diventano giganteschi compromessi che ti ammazzano dentro lì sono proprio scettico ma comprendo perfettamente che alle volte i piccoli compromessi debbono essere accettati e poi soprattutto dipende da situazione io propongo una linea molto chiara come come posso dire come ideale a cui ambire soprattutto quando ancora si è in tempo perché alle volte delle persone si mettono a mettere al mondo due tre figli poi dicono ma è difficile ora sono così a scendere compromessi sennò come campi i miei figli e ma se ci pensai tre volte prima di fare tre figli forse avere la possibilità di di stare alla laga dai compromessi ma è per quello che propongo quella visione per far capire che cosa comporta una scelta anziché un'altra ad avere una visione lungimirante a 360 gradi oltre al fatto che i figli dovrebbero pensare due volte prima di fare anche per altre motivazioni quindi questo per far capire molto bene il mio concetto però tu hai detto un'altra cosa interessante cioè no è sempre la stessa volevo aggiungere una cosa su quella cosa interessante sempre posto dei frustrati che sono anche al di fuori della società al di là che alcuni sono proprio lontanissimi da quelli che difendo io ci sono anche ci sono anche delle persone frustrate non inserite nella società che non sono finti alternativi quindi realmente hanno dei principi quindi ci sono alcuni che hanno dei principi vicini ai miei sono al di fuori della società però ci stanno male hanno un po' di frustrazione ci sono e non parlo dei finti alternativi che non raggiungono l'uva allora la critica proprio persone valide magari simile a me che però hanno una frustrazione certo ci sono è vero anche questo però secondo me se qual è il discorso è che anche questi come posso dire il loro problema non è il fatto che siano troppo molli o troppo attaccati alla gonnellina a mio avviso cioè non è quello secondo me al massimo lì è un problema di autostima è un problema magari come posso dire di ferite subite in passato che non riescono a superare non è un problema di diciamo di mollezza a mio avviso poi attenzione ci possono essere anche due visioni su come riuscire a sollevarsi da queste situazioni parlo sempre di persone valide che però soffrono un po c'è chi propone la soluzione del come posso dire dell'attivismo nel senso della reazione del reagire in senso proprio dinamico affrontare le cose più esterne da noi che siano lavorative che siano è per carità non sto criticando questa visione però io sono molto più vicino ad una ad una sorta di di attivismo interiore che non necessariamente deve combaciare anche con un attivismo estero può anche può anche unirsi a ciò però io per quella che è la mia concezione della vita e delle cose mi concentro su cercare di prendere atto di se stessi e inorgoglirsi per quello che si è al di là dell'affrontare le cose lavorative extra lavorative io propongo proprio l'accettazione cioè accettati come sei 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 una bella persona inizia a dire valgo a trovare coraggio anche senza fare nulla di pratico ma trovare proprio guardanti allo specchio chiudendo gli occhi anzi c'è bisogno anche di guardarti allo specchio capendo chi sei trovare forza dentro di te razionalizzando eccetera perché secondo me questo può essere d'aiuto per passare da un umore grigio a un umore non dico super gioioso ma migliore ci sono persone che mi dicono che nonostante la loro vita è la stessa di prima non è che hanno cambiato qualcosa nella loro vita in maniera particolare ma hanno cambiato il modo di pensare il modo di vedersi già questo è bastato per sentirsi meglio e allora considero molto valida anche questa strada in una società che parla soltanto di agire e di fare poi attenzione può anche essere d'aiuto quello si può integrare non c'è nessuna critica da parte mia però è una società che parla troppo di fare tanto di agire poco di no poco di lavoro con se stessi interiore io preferisco concentrarmi su questa su questa su questa cosa qui per quello che io spesso ripeto quei concetti e poi alla fine io sono anche molto della logica basta che funzioni la persona prova modo nell'altro tutte le due se funziona cosa vuol dire che funziona che senza fare danni agli altri nel rispetto degli altri lui cambiando un qualcosa in senso attivo in senso interiore la sua vita sta meglio vuol dire che va bene quindi io non ho nessun tipo di come posso dire di fosserizzazione nelle mie posizioni mi concetto su quello che considero importante perché la base secondo me interiore perché magari uno diventando più dinamico affrontando le cose prendendole no di petto magari può anche essere d'aiuto però se il problema è la base di mancanza di autostima di considerazione di sé non solo le cose esterne anche affrontate secondo me che migliorano proprio cosa cioè magari per affrontare le singole cose si è chiaro se uno non ha mai che so detto ad una ragazza ciao facendolo impara a farlo se uno non ha mai lavorato in una fabbrica facendolo impara un pochettino di più e quindi si affrontarlo meglio però per quanto riguarda la solidità interiore quelle sono cose che posso dire un pochettino più superficiali sono delle magari delle rafforzamenti che non riguardano la parte più intima di sé quella si trova da soli con se stessa allora io mi concedo su quella però si può perfettamente integrare anche con una sorta con una serie di cose più legate all'affrontare ripeto le situazioni eccetera non le escludo io semplicemente io sono abile nel far capire certe cose mi concedo su quelle poi si può integrare con tantissime cose che magari si trovano nei tuoi commenti in tue considerazioni e poi a proposito del mio canale ecco c'è un'altra cosa che io volevo dire molto importante che qualcuno ha accenato non mi ricordo chi fosse big man negli anni io ho avuto molte persone che all'inizio mi elogiavano in maniera assolutamente forte e poi sono diventati i miei haters e questo perché avviene attenzione lui l'ha detto credo di cane figlio non penso che sia il caso suo però io approfitto di quel commento per dire che è vero che è avvenuto a volte questo che di grandi alloggiatori dichiarati a fine mio pensiero che poi iniziano ad odiare non credo sia il caso di cane figlio e sicuramente non lo sarà però a volte perché è avvenuto questo proprio perché alcune persone che seguivano le mie parole il mio canale in realtà non avevo capito niente delle mie parole le interpretavano a modo loro pensando di essere uguali a me poi a certo punto vedendo dopo un mese dopo due mesi dopo un anno un video che a loro non andava a genio in realtà coerentissimo con la mia persona ma non secondo loro metto in corrente rigo sei cambiato ti odio e iniziando ad insultarmi molto spesso è avvenuto questo e allora è vero che ci può essere una persona che invece è in parte vicina alle mie posizioni anche in grado alla parte ma in parte no che però avendo una visione critica ragionando con la propria testa in maniera totale è più altra possibilità che non si arrivi mai ad odiarmi ma ha una costanza di stima per alcune cose che dico allontananza per altre cose attenzione non sto dicendo che tutti quelli che mi elogiano dico che ho sempre ragione su tutto poi mi odio no ci sono delle persone che da sette anni mi seguono e sinceramente concordo con la maggior parte delle cose che dico ed è normalissimo è normalissimo trovare persone su cui si trova su tutto e quelle continuano poi ci sono anche persone che ti dicono che sono su tutto e poi ti dicono che sei una merda ora sono sempre meno queste persone sono quasi scomparse perché questo è avvenuto soprattutto nei primi anni del mio canale ora questa cosa ho suggestato molto il mio pubblico quelli se ne sono andati ora quelli che mi seguono sono quasi tutti persone che concordano quasi sempre con me ma in maniera sincera in maniera matura quindi non arriverebbero mai ad odiarmi al massimo potrebbero divergere ripeto qualcosa oppure persone che mi seguono perché condividono il 50% delle cose che dico gli altri 50% no e va benissimo così io voglio fare una cosa i primi anni di canale fate conto io facevo dei video intitolato viva la figa no viva la sega e ho attirato con quel genere di video delle persone che magari non arrivavano alla donna insomma un pochettino soli in quel senso lì odiavano magari le donne maschilisti e allora dicevo grande Enrico sei il nostro portavoce quando io di maschilismo non avevo e non ho nulla non l'ho mai avuto nulla pensate che quando io ho fatto quel video viva la figa no viva la sega bene pensate un po' io 5 minuti prima di fare quel video probabilmente avevo appena fatto sesso ah sì sì mi dicono in quel video lì mezz'ora prima avevo fatto sesso quindi per dirvi quanto potevo essere lontano da quelli che invece mi seguivano elogiavano quel mio tipo di pensiero in quanto magari non vedevo una donna neanche col binocolo magari per colpa loro oppure anche se non era colpa loro per questo diventavano maschilisti quindi pensate e poi dopo siccome dopo anni mi hanno visto fidanzato ho uscito con qualche ragazza vergogna dico incoerente quando anche all'epoca io all'epoca ero fidanzato solo che alcune persone vedono in altri solo ciò che vogliono vedere e poi mi accusano quella persona di incoerenza ma rispetto all'ergo che vedevano loro non quello che ero io io non ho mai quel video lì non era una specie di disprezzo nei cofoi delle donne di esaltazione della masturbazione perché migliore della vagina assolutamente era un video che alcuni hanno capito ma altri no ed ho un video coerentissimo con quello che penso anche adesso cioè il sesso è bello ma anche la masturbazione è bella se il sesso c'è bene se non c'è lo stesso la masturbazione non è una cosa da sfigati non c'è nulla di particolarmente contestabile di quel mio pensiero è lo stesso che anche che oggi con l'aggiunta che se io dovessi lottare fare sacrifici impegnarmi sbattermi per conquistare una donna solo allo scopo di andarci a letto meglio una sega se invece voglio impegnarmi mettermi in discussione per una bella relazione solida per un amore per una relazione allora è viva ma se lo scopo deve essere unicamente la copulazione il copulare ma meglio una sega se tu con una donna facci soltanto sesso o è una cosa facile proprio lei vuole stare con te senza troppi sbattimenti oppure non ha senso sacrificarsi stare lì e cercare mica con questo soltanto per la figa meglio una sega tranquilla e sega con gioia ricordatevi masturbatevi con gioia con entusiasmo non mi seguo perché non posso avere quella allora mi posso concedere sulla con gioia sesso con gioia ma soltanto con gioia quello era il mio spirito questo è il mio attuale e negli anni finalmente ci voleva tempo ho mandato via o sono andati da soli quelli che non hanno mai capito niente di me sono rimasti i commentatori e gli esseri migliori poi ogni tanto ci può essere qualcuno che non capisce niente però è un pubblico assolutamente selezionato il mio di persone che ora sono realmente alternativi sia molto fuori dalla società sia alternativi all'interno della società e pochissimi di finti alternativi in realtà pecoroni proprio perché alla lunga vengono fuori e questa è una cosa molto molto bella perché ho davvero un pubblico di qualità io ne sono assolutamente convinto alcuni che magari neanche commentano ma ascoltano e basta e quindi congratulazioni al mio pubblico perché realmente penso che sia il migliore di youtube italia e a proposito di critica che alcuni mi fanno ah Enrico però è un pubblico di fanatici che ti vede in un gruppo non è assolutamente vero sono pochissime le persone che mi elogiano criticamente sono veramente pochi oggigiorno e lo si vede quando li dico con qualcuno qualche youtuber loro hanno protoni di esecuzione che vengono ad insultarmi o sotto il loro video mi insultano quando io li dico con qualcuno forse uno o due ma neanche per così cattivo animo ma semplicemente per carattere un attimino così incazzoso solo uno o due magari vanno là a dirne quattro ma quasi nessuno si scaglia per difendermi da un lato ripeto non è convenientissimo come youtube perché non ho non ho un esercito no che viene a combattere no queste guerre ma dall'altro lato è una cosa che mi inorgogliosi perché voglio dire con pubblico di qualità in realtà un esercito ce l'ho ma è un esercito che non combatte battaglie sterili contro il nulla ma un esercito di persone consapevoli che in quanto esistenti non soltanto su youtube rendono questo mondo un posto migliore ed io sono una sorta di loro cassa di risonanza tutto qua o una persona con cui confrontarsi e se un giorno faremo la comune della consapevolezza sarà bello in tre quattro condividere anche una vita comune secondo me stiamo facendo qualcosa di grande nel nostro piccolo ma capite si deve capire che le grandi cose si fanno con le piccole le piccole gesta i piccoli progetti ovvero progetto capite bene io cosa intendo ragazzi io vi abbraccio spero che il mio video vi sia piaciuto e a presto